alle dinamiche che sono in atto rispetto alle quali dichiaro sin da ora assoluta estranità con riferimento alla mia posizione che mi vede attualmente tra gli indagati. Ho appreso grazie al puntuale lavoro degli inquirenti una situazione sconcertante che se sarà confermata risulta molto grave per la nostra regione lo scenario che si evince da questa indagine oltre ovviamente a generare sconcerto rabbia tra i cittadini e nell'opinione pubblica rafforza però un interesse mio non tanto nella mia persona come cittadino ma nella mia qualità di presidente della regione. Interesse ad una presa di conoscenza puntuale di fatti ed atti perché se confermata l'ipotesi accusatoria questi rappresenterebbero un gravissimo vulnus sulla gestione della sanità di questa regione ma soprattutto aprirebbero in me nella veste di presidente una gravissima preoccupazione e cioè che il complesso sistema dei controlli interni che sono già previsti per le amministrazioni delle aziende sanitarie che è un meccanismo complesso ed articolato di strutture di controlli previsti dalle normative nazionali e lo voglio sottolineare abbia mostrato in realtà fortissimi limiti ed inefficacia e il ruolo istituzionale che io rivesto mi impone intanto in queste ore in questi giorni anche di assumere delle scelte dirette che siano volte ad assicurare al sistema dell'amministrazione regionale di modo particolare a quello sanitario alcuni provvedimenti perché è necessario che il lavoro anche fin qui svolto questo lo voglio dire da tanti amministratori pubblici di questa regione ma anche da tantissimi dipendenti pubblici non può andare disperso i risultati che sono stati raggiunti e che hanno degli dei riscontri oggettivi che sono quelli certificati dal ministero della salute dal mef qui stiamo parlando di una regione che storicamente è una regione benchmark del sistema sanitario di adempimenti dell'ea di equilibrio della spesa sanitaria questo lavoro deve essere messo al sicuro per il bene dei cittadini umbri e quindi il primo messaggio lo do ai cittadini della mia comunità e devono sapere che ogni azione sarà improntata come lo è stato in questi anni al mess al massimo rispetto delle finalità pubbliche e anche alla mia piena autonomia che ho sempre dimostrato nella funzione di governo e soprattutto nelle funzioni di indirizzo e di governo del sistema sanitario con l'obiettivo di raggiungere anche la salvaguardia degli obiettivi proposti dico anche che la mettiamo al sicuro da ogni strumentalizzazione politica ed interferenza che in queste ore stanno venendo avanti io invece ho l'interesse che in questa fase si possa accertare la verità e io possa conoscere il più possibile i fatti e atti di questa vicenda e quindi non mi troverete in questi giorni all'interno di una polemica politica e di una strumentalità in questa fase sono interessata ad una ricerca della verità perché come presidente di questa regione ho piena fiducia delle autorità inquirenti che stanno guidando queste indagini e di cui conosco rigore professionale accuratezza e salvaguardia di tutte le garanzie questo lo voglio sottolineare che non è solo uno stile che attiene anche ai principi che mi hanno sempre guidato anche come persona ma anche voglio ribadire un punto che credo sia importante che quella non solo di una disponibilità incondizionata a mettere a disposizione ogni elemento in mio possesso già ora ma anche quelli che potrebbero essere nella mia disponibilità e che quindi nelle prossime settimane cercheremo anche di far emergere da un lavoro di squadra che possa essere utile alla definizione di qualsivoglia profilo della questione perché su questo degli obblighi istituzionali ma mi sento di dire anche dei doveri morali che mi impongono di esercitare un ruolo non solo attivo ma proattivo su questa vicenda e gli umbri che mi conoscono sanno che ho anche carattere e formazione che va in questa direzione mi consentirete anche una nota più personale perché nell'esercizio delle funzioni pubbliche nella mia vita privata e professionale chi mi conosce sa che ho sempre ispirato i comportamenti anche ad un rigore morale assoluto anche a volte non ritenuto di una rigidità eccessiva proprio perché sono convinta che l'azione di trasparenza di correttezza e di lealtà dell'amministratore pubblico è centrale ed è il motivo per il quale oggi mi sento di dire che voglio solo ricercare la verità e quindi non posso che vedermi come una interlocutrice prima ancora che come soggetto a disposizione dell'autorità inquirente voglio anche dire che nel mio ruolo istituzionale ho il dovere anche di difendere quindi le cose che farò vanno anche a difesa dell'operato e dell'onorabilità di tutto il personale del servizio sanitario regionale sono circa 10.000 persone tra personale medico infermieristico tecnico amministrativo manageriale che consente a questa regione di disporre di un servizio sanitario all'avanguardia e di ottimi anche risultati i cittadini umbri si aspettano delle risposte e quindi ho il dovere oltre quello che è ovviamente l'azione autonoma della magistratura per quanto è di mia competenza affinché ottengano anche attraverso un impegno attivo dell'istituzione regionale alcune verifiche e lacune del sistema dei controlli interni che hanno caratterizzato le strutture aziendali credo che oltre ai cittadini di questa regione siano interessati alla ricerca della verità e della trasparenza su tutto quanto è emerso sin d'ora ovviamente sempre dicendo nell'ipotesi accusatoria anche la comunità politica la quale appartengo la mia comunità politica che è quella del partito democratico perché è proprio il pd che prima tra tutti vuole sapere e conoscere in quanto la comunità politica è una comunità che è fatta di amministratori pubblici di rappresentanti delle istituzioni ma anche di tanti elettori iscritti e simpatizzanti che chiedono che sia tutelato l'interesse della propria onorabilità come famiglia politica e anche i valori su cui si ritrovano ancora oggi milioni di italiani in questo paese e quindi per me anche come esponente del partito democratico condivido pienamente quello che ha espresso oggi il segretario nazionale nicola zingaretti collega peraltro presidente di regione sulla necessità e l'affermo anch'io che l'indagine non solo proceda nei tempi più brevi possibili insomma ma soprattutto procede all'accertamento di eventuali responsabilità ho già dato notizia alla stampa che oggi ho proceduto alla distribuzione delle deleghe precedentemente assegnate all'assessore barberini oggi agli assessori bartolini paparelli e cecchini secondo il comunicato che vi ho trasmesso e vi comunico anche che nella seduta della giunta di lunedì prossimo provvederemo ad attivare le procedure per la nomina di un nuovo commissario per l'azienda ospedaliera di perugia che per noi in questa regione è la principale azienda ospedaliera della regione